Un settore dell'economia che si rimette in moto e il nostro pesce in grande varietà che turna sulle tavole. È la fine del fermo pesca che a Fano è stata salutata dal sindaco Massimo Seri. Diverse infatti le imbarcazioni che da questa notte sono tornate in mare. Come tutti gli anni da quando sono sindaco al termine del fermo pesca e quando ripartono le attività, la ripartenza dei pescherecci vengo a salutarli e augurare il riavvio dell'attività della pesca. Questo perché è un momento di vicinanza e anche un momento di attenzione verso questo comparto che negli anni ha avuto delle difficoltà anche rispetto al passato. I imbarcazioni che usciamo in mare a Porto di Fano siamo all'incirca 8, sotto una decina, non di più, di cui medie e piccole dimensioni e anche delle bacche superiori di 24 metri. Noi partiamo con l'eretta strascico e le quantitative di pesce che pensiamo di prendere di questi periodi sono le panocchie, qualche soiola, qualche gambero, le triglie, qualche merluzzo, rimuovo lì. Queste sono le qualità che adesso offre il mare in questo periodo. È importante il fermo pesca per ripopolare il nostro mare adriatico perché è molto sovrasfruttato, però pensiamo sempre, parole mie, che è un pochettino sbagliato come tempistica, anche perché come zona di ripopolamento, come fase di ripopolamento sarebbe meglio anticiparlo che non è sempre nel mese di agosto, che è a lungo andare, potrebbe sempre che a giugno, maggio, giugno abbiamo sempre una scassità di pesce. Speriamo sia un buon inizio, per quanto noi vediamo come sarà la nuova stagione, lo vediamo domani, insomma. Una volta che siamo in mare, allora ci rendiamo conto di quello che ci aspetterà per l'anno a venire. Ormai il fermo comincia a essere una coperta un po' corta, diciamo che per coprire i piedi scopriamo il collo o viceversa. Sicuramente un'altra settimana, dieci giorni non avrebbero guastato perché ancora è un po' presto per la stagione, però comunque è sempre meglio di niente, tanto sono sempre 40 giorni che siamo fermi, quindi il mare sicuramente ne trae beneficio. Noi ci eravamo già preparati dal mese di aprile, da quando abbiamo ripreso la pesca, dopo i 20 giorni che siamo stati fermi proprio per il Covid. Ci eravamo già organizzati, quindi ripartiamo in quel modo, nei momenti che siamo più vicini usiamo le mascherine, però abbiamo una barca grande che ci permette di lavorare tranquillamente stando lontani. Nei momenti di pausa dove ci avviciniamo, usiamo le mascherine, prendiamo certe precauzioni, però ricominciamo da dove abbiamo fermato. Il fermo pesca è importante, però è da ripartire secondo me in altri periodi un pochettino diversamente, però è molto importante per il ripopolamento di alcune specie marine. Mi auguro che ci sia tanto pesce e che potremo ripartire anche dopo l'emergenza Covid, con tanta crisi che abbiamo avuto pure noi, che siamo pagati a compartecipazione e all'asta al ribasso. Speriamo di avere tanto pesce e di soddisfare il quantitativo per l'intera città e oltre.